Buongiorno, siamo nuovamente in diretta, siamo riusciti ad andare dall'altro versante e questa è la situazione, come vedete sta operando anche l'elicottero del corpo forestale in questo momento, vediamo due mezzi qua, abbiamo visto un altro mezzo giù in fondo e altri mezzi che stanno operando proprio in questi minuti per spegnere questo incendio è molto vasto, è un cannetto, le fiamme purtroppo proseguono avanti lungo questo canale siamo in diretta, questa è la situazione, volevamo raccontarvela proprio in tempo reale come vedete questo è l'elicottero del corpo forestale che sta operando proprio in questi minuti e questa è la situazione, vi aggiorneremo più tardi ovviamente sull'evoluzione di questo incendio purtroppo anche oggi è una giornata con l'allerta arancione per il forte vento e questa è la diretta di Cagliari Pad, vi invitiamo ovviamente a ricondividere il video e a mettere mi piace nei nostri canali social, buona giornata a tutti